Nel futuro cosa ci sarà? Si va verso ovviamente le amministrative 2020? Solo tre parole, Arezzo nel cuore. Quindi una lista civica al di là di Forza Italia, comunque a sostegno del sindaco Ghinelli? Una lista civica sicuramente. Il consigliere comunale di Arezzo, Angelo Rossi, lo aveva annunciato in un nostro servizio e nella prima puntata della nostra trasmissione a Tu per Tu. A Arezzo nel cuore l'associazione e l'omonima pagina Facebook, nata per raccogliere le segnalazioni dei cittadini, diventerà una lista civica. Lui e la consigliera Mary Cornacchini sono dunque pronti a trasformare l'esperimento anti-Cialtroni in soggetto politico che avrà la sua piena indipendenza. Rossi e Cornacchini per il momento siedono tra i banchi di Forza Italia pur non essendo tesserati. Ti vai al giro e parli con la gente e dici ma la Mary mi ha risolto questo problema, le telefonano tutti i giorni, abbiamo 10-12 segnalazioni ogni giorno di cittadini a quali lei risponde. La frustrazione di non essere stati presi pienamente in considerazione come risorsa ha portato ad Arezzo nel cuore. Che è esattamente questo, cioè noi questo lavoro qui noi ci crediamo, noi pensiamo che l'esperienza civica nella quale noi siamo nati e portiamo avanti sia con la teoria delle finestre rotte che con l'impegno concreto sul territorio necessiti effettivamente di essere portato avanti e che sia un arricchimento vero. Se poi lo capiranno, bene, se no... Oltre ai due consiglieri la porta è aperta a tutti coloro che vorranno davvero combattere il degrado. Grazie a tutti.